Ancora questa macchina, è una macchina che tutti fanno le foto, i video, intanto che macchina è? È una 600 Multima del 1956 che io ho comprato 20 anni fa e non pensavo mai al mondo di avere un successo in questo modo perché è una macchina che se ne vedono pochissimi poi sfortunatamente è uscito un bel colore che va e funziona quindi chi la vede dice che è bella, che bella, si innamorano tutti di questa macchina e io l'ho data a una signora perché entrando la signora diceva che è una bella macchina, signora si accomodi e se la porta a lei In questo raduno ci sono anche voi presenti con il Vespa Club di Nicodero è un bel raduno, uno dei più grandi raduni della Calabria Sì, siamo stati invitati a partecipare a questo evento e niente, chi è potuto essere presente l'ha fatto con piacere Ecco, voi intanto arrivate dalla Sicilia, tanti chilometri per venire in questo raduno Si dice che è uno dei raduni più importanti della Calabria, questo di Limbalia, anche perché c'è Mamma Natuzza Allora, per come mi ha raccontato il collega, amico, fisiciario Enzo Polimeni che mi ha invitato oggi ad essere qua, a partire da Modica, in provincia di Ragusa Modica è il famoso per il cioccolato Spostarci in 500, un'impresa di 296-297 chilometri vuol dire che c'è qualcosa di importante da vedere e da scoprire grazie a Enzo A Portopalo, Capopasso Ecco perché Provincia di Ragusa Quindi tanti chilometri per arrivare qui a questo raduno Sì, abbiamo fatto tanti chilometri, ci siamo pernottati a Catanzaro quindi siamo stati ancora più lontani e questa mattina siamo qua, in questo bel raduno in questi posti fantastici che non abbiamo mai visto La passione a lei, signora, il marito o poi anche le prime persone? Entrambi, entrambi Sì, sì È una passione che ho conosciuto con lui veramente quando ci siamo messi insieme Sì, non conoscevo le 500, i raduni e piano piano ho imparato Oltre ai raduni quindi si conoscono anche i posti belli diciamo sia la Calabria, la Sicilia Per questo E amicizie, persone tutte buone Sì, si fanno amicizie e poi si vedono posti nuovi è bello per questo, non è solo l'auto in sé il raduno in sé è bello per questo perché comunque si gira e si vedono tante cose Sì, è una bella iniziativa quella di oggi delle Fiat 500 qui a Mileto Infatti ringrazio per la cortesia che ci è stata prestata dal Club delle 500 nella persona del Presidente Enzo Polimeni che ha scelto la nostra comunità e in particolar modo questa giornata è dedicata alla Mamma Natuzza di cui noi siamo orgogliosamente devoti e anche siamo molto sensibili alla situazione anche perché il 6 agosto come è stato preannunciato da Sua Eccellenza il Vescovo nostro verrà consacrata la Chiesa che è alle nostre spalle quindi questa è una manifestazione che oggi viene fuori dopo un periodo di Covid che rappresenta un momento di rinascita dell'intera comunità Ecco, un volano di sviluppo del territorio del turismo in questa iniziativa far conoscere le città del Calabresi Infatti, infatti questa manifestazione si interpone proprio nell'ambito di quelle manifestazioni che servono a stare insieme a riconciliarsi con gli amici a curare l'ambiente ma anche a far conoscere i territori e in questo caso Mileto sia con Mileto capitale normanna e sia come Mileto capitale religioso diciamo così per la presenza oltre che della diocese anche di questa importante struttura della grande chiesa voluta da Mamma Natuzza Inso Polimeni, successone vediamo i 500 da tutte le parti d'Italia possiamo dire Centro Sud Messina Basilicata Puglia addirittura Campania Sì io voglio ringraziare prima di tutto il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per il patrocino che ci hanno dato veramente il nostro sindaco dottore Giordano ha creduto in questo nostro progetto e continuerà a credere in questa bellissima manifestazione che abbiamo fatto oggi oggi è l'Onno Raduno come dicevi tu sono arrivate persone da ogni parte della Calabria della Sicilia e della Puglia e non ho parole per ringraziare noi ormai qua col sindaco e con l'amministrazione comunale di Mileto siamo di casa quando ci presentiamo le porte sono nuove aperte spalancate un ringraziamento lo voglio fare al padre Michele che anche lui quando sa che ci deve fissare la data per il raduno le porte si spalancano anche del santuario qua di Natuzia è un raduno fortemente sentuto uno dei raduni più importanti devo dire che faccio qui in Calabria con enorme successo oggi c'erano oltre 150 macchine e ancora ne devono arrivare perché hanno chiamato che ci sono tante macchine che devono arrivare però li stiamo aspettando qui al santuario per la benedizione di tutte le auto e niente grande successo qui a Paravati e tutti sempre più numerosi al prossimo anno sempre sindaco e amministrazione comunale permettendo che non abbiamo parole assieme a tutti i cinquecentisti per ringraziare grazie a voi grazie a voi